Ogni persona nella propria vita presto o tardi dovrà confrontarsi con il concetto di limite, sia esso personale o dettato dal mondo circostante. Il limite sta a indicare tutti quegli ostacoli che un individuo incontra perseguendo i propri bisogni e le proprie finalità. Questi ostacoli sono raggruppabili in due grandi categorie. La prima, l'attesa. Perché si riesca a soddisfare un proprio bisogno serve del tempo, sia esso più o meno lungo. Crescendo un individuo realizzato impara che non è possibile avere tutto e subito. L'altra categoria di ostacoli è quella della frustrazione e della perdita. Non sempre sarà possibile ottenere tutto quello che si vuole o comunque non sarà possibile ottenerlo per come lo avevamo fantasticato o ancora più semplicemente desiderato. Vivere senza riconoscere i propri limiti, non sapere attendere, non riuscire a tollerare le frustrazioni, può portare a forte disagio e sofferenza, generando rischi e problemi. Noi che siamo affetti da problematiche di dipendenza, abbiamo vissuto gran parte della nostra vita senza la capacità di porci dei limiti. Ignorarli ci faceva sentire onnipotenti. L'abuso di sostanze stupefacenti ci dava una sensazione di essere capaci di tutto, semplicemente perché con il tempo non abbiamo più provato a fare nulla. Non ci interessava di sbagliare, non ci interessavano i giudizi altrui, perché le nostre convinzioni errate avevano preso il sopravvento sulle nostre scelte e in quel momento non volevamo altre alternative. Qualsiasi cosa avessimo scelto ci avrebbe messo nella condizione di assumerci responsabilità e di dover faticare per raggiungere dei risultati. Per noi la vita era la sostanza, il continuo tentativo di oltrepassare quella linea invisibile tra il reale e la fantasia, entrando in un mondo parallelo, senza regole e senza limite. Nessun'altra cosa poteva sostituirla. Per molti di noi l'intraprendere un percorso di cura ancora una volta non è stata una scelta, ma l'ultima possibilità di trovare la speranza di poter vedere ancora un nuovo giorno. Qui in comunità, grazie al percorso terapeutico, abbiamo conosciuto lati della nostra personalità che prima erano soffocati dalla dipendenza e soprattutto ci siamo scontrati con le nostre false credenze che ci hanno impedito di crescere. Il lavoro di questo mese, volto ad approfondire il concetto di limite e quello di confine, in una residenzialità condivisa, protetta, ha messo alla prova tanti aspetti del nostro carattere, rendendo più evidente la difficoltà che riscontriamo nel tollerare altre persone, perché ad esempio hanno per noi la funzione di specchio, il compito reciproco di rimandarsi un altro punto di vista. Il Kufrad ci ha permesso di superare questi ostacoli e di porci degli altri obiettivi, andare oltre le resistenze e comprendere che molti limiti possono essere superati. Infatti molti di noi si sono ritrovati a svolgere mansioni prima ma intraprese per paura di essere considerati incapaci. Uno dei nostri compagni ha scritto durante un'attività di laboratorio. Qui in comunità nessuno ti giudica e quello che prima vedevamo come possibilità può trasformarsi in realtà, ma ho anche imparato che per raggiungere un minimo di serenità occorre accettare i nostri limiti. Questo è un traguardo importante perché mi aiuterà sia durante il percorso di cura sia nel momento in cui uscirò dalla comunità ad affrontare le sfide della vita con la convinzione di possedere delle risorse e di capire quali situazioni dover evitare per non ricadere nelle dinamiche della dipendenza. In conclusione gradualmente ci stiamo liberando dalle catene mentali che ci hanno condotto fino qui e abbiamo alzato lo sguardo e visto in lontananza nuovi orizzonti. In quell'immagine il limite era solo una linea sottile tra il cielo e la terra e continuando a impegnarci anche noi un giorno saremo perfettamente in sintonia con entrambe queste realtà.